A bordo della zattera, sopra il fiume Ciavon. Dimmi Daniele. Eh non credo proprio. Sì possiamo anche, avete posto voi lì? Va bene. Adesso finisco di fare il regista poi vengo. Ah ma la poppa è là. Là dove sto inquadrando c'è la poppa col motore. E' vero se è il vaporetto? Monica, siamo nel bateo. Ragazzi siamo felici oggi. Perché c'è Schettino con noi. Anche a Santo Domingo conoscono Schettino. All'incredibile velocità di 0 km all'ora, la visibilità è di 0 km all'ora. E l'altezza è di 0 metri. Dietrice.